Fermato al posto di blocco, riparte improvvisamente investendo con l'automobile la donna carabiniere che lo aveva fermato. L'uomo Domenico Di Berardino, 35 anni di Raiano, laureato in chimica con un dottorato in ricerche scientifiche e tecnologiche, è stato arrestato poco dopo al termine di un rocambolesco inseguimento. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa a Prato la Peligna. I carabinieri avevano istituito un posto di blocco alle porte della cittadina quando è arrivato Di Berardino a bordo della sua auto. Allo stop dei carabinieri l'uomo si è prima fermato, poi quando la donna componente della pattuglia gli ha chiesto i documenti, il giovane è ripartito investendo la militare. Solo grazie alla prontezza di riflessi la donna ha evitato il peggio, riuscendo a buttarsi all'indietro e procurandosi un trauma ad una spalla e a una gamba. Nel frattempo di Berardino è stato immediatamente inseguito dalla stessa pattuglia e dopo 5 chilometri è stato bloccato alle porte di Raiano. Immediate sono scattate le manette. Questa mattina l'uomo è stato processato con rito direttissimo dei giudici del tribunale e dopo la convalida dell'arresto e la concessione dei termini a difesa, l'uomo è stato scarcerato e sottoposto all'obbligo di firma.